L'emergenza Covid si è inserita in una situazione economica già indebolita dalla crisi del 2008, con conseguenze drammatiche secondo l'ultimo rapporto dell'IRPET presentato in regione. Impoverimento della popolazione, aumento delle disuguaglianze, contrazione della capacità produttiva. Un quadro che in Toscana è stato aggravato dal crollo di due punti di forza storici, le esportazioni e il turismo. E così il PIL è in fortissimo calo e 53 mila posti di lavoro sono andati perduti rispetto a un anno fa. Dietro la caduta del PIL di oltre il 10% ci sono molte disuguaglianze che aumentano, persone che perdono il lavoro, persone che vedono ridotto fortemente la loro retribuzione. Però c'è anche un altro fatto importante che riguarda il futuro, perché il futuro di un'economia dipende molto dalla sua capacità produttiva, dagli investimenti fatti, dal lavoro messo in moto. Ecco, questa crisi ha eroso ulteriormente il capitale produttivo e il lavoro, quindi è come se ci fosse un motore più ristretto. Da dove ripartire dunque, secondo l'IRPET, dal rilancio degli investimenti e dalle riforme, affidando un ruolo centrale ai soggetti pubblici? Sono convinto che è fondamentale rilanciare gli investimenti. Occorre passare dai 2 miliardi di investimenti, che sono quelli che tipicamente abbiamo in Toscana, a qualcosa come 5 miliardi di investimenti. Quindi occorre all'anno. Quindi occorre da un lato rilanciare tutto ciò che è bloccato. Io sono favorivolissimo al decreto del governo che prevede l'accelerazione, che prevede i commissariamenti, che prevede di ispirarci a un po' il modello Genova. Alla fine di maggio il settore maggiormente colpito dalla crisi Covid è risultato il turismo. In calo anche alcuni comparti manifatturieri storici come la moda il tessile. I settori che invece hanno tenuto meglio sono quelli ritenuti essenziali, come il cartario e l'alimentare.